ciao miei cari amici come procedono i preparativi per natale continuate ad inviarci le vostre foto degli allestimenti di natale e condividete con noi i vostri momenti speciali qui a valle del natale non ci fermiamo mai ci arrivano tantissime letterine ne ho selezionato alcune davvero speciali venite con me e leggiamole insieme vediamo un po chi mi scrive caro babbo natale per favore quest'anno invece dei regali vorrei con me la mia famiglia niente giocattoli o videogiochi ma soltanto papà mamma nonna e nonno non ce la faccio più a stare da sola e voglio tutti qui con me sei d'accordo ti voglio bene roberta roberta la tua letterina è molto bella e mi ha fatto emozionare è un bel messaggio di speranza che ci spinge a credere ancora di più nei sentimenti veri dell'amore per le persone più care grazie davvero ne avevamo tutti un po bisogno ti prometto che mi impegnerò affinché possa realizzare questo desiderio ciao 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 roberta bevi 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 be pot bevi bevi Grazie a tutti.